Bricks for City Gioco di interazione tra la città e il museo Inserire il museo dentro le trasformazioni urbane, anzi di farlo diventare elemento della trasformazione urbana Credo nel videogioco come arte La progettazione urbana partecipata Una rigenerazione che renda gli spazi che viviamo più accessibili a tutti La città ha cercato di entrare nel museo, mettersi al passo con i tempi È davvero molto divertente Abbiamo reso il museo più bello Prenderete una macchina del tempo e andrete nel 2031 Ma come facciamo a viaggiare nel tempo? Ho costruito le panchine, ho messo le lanterne Abbiamo ricostruito le guardiole come punto di filtro tra il museo e la città Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!